Salve a tutti amici, in questo video vediamo come realizzare un effetto ghost, un effetto fantasma. Vedremo come realizzarlo per tutta la durata della clip, oppure addirittura far sì che il soggetto vada a scomparire pian piano. Con questo mio sistema va bene qualsiasi programma di montaggio video, purché abbia l'effetto opacità. Credo che tutti ormai debbano avercelo, tutti i programmi principali ce l'hanno. Quindi basta avere la funzione di opacità e ovviamente un programma di montaggio video che vi consenta di sovrapporre due tracce in timeline. Allora, che cosa dobbiamo fare? Il lavoro si fa in fase di preparazione del filmato, più che altro. Quindi cosa facciamo? In questo caso ci sono io che cammino. Dobbiamo preparare lo scenario in modo che non ci siano dettagli sullo sfondo che cambiano. Ad esempio, vedete qua ho scelto un punto in cui il panorama non cambia. Ad esempio, se sullo sfondo ci sono persone che camminano, ci sono macchine che passano avanti e indietro, non va bene per questa tipologia di effetto fatta come ve la sto per mostrare. Il panorama, il paesaggio deve essere il più statico possibile o se c'è un movimento dovrebbe essere il più regolare possibile, perché verranno sovrapposti due filmati. Allora, lasciamo perdere che io ho filmato con l'S8, con le modalità multirallent, quindi vedete il soggetto va al rallentatore, ma è indifferente. Può anche andare a velocità normale, l'ho fatto per fare un altro tipo di effetto. Allora, quindi fate camminare il soggetto per poi farlo sparire dall'inquadratura, senza muovere nulla, quindi assolutamente usate il cavalletto, tenete immobile la fotocamera, videocamera, su un muretto, su qualcosa. Lasciate uno spazio vuoto. Nel mio caso è troppo corto, bisognerebbe comunque per sicurezza lasciarlo molto più andare in avanti, a seconda di quanto deve durare la parte primaria. In questo caso però mi va bene. Allora, quindi cosa facciamo in fase di post-produzione? Allora, mettiamo il filmato in timeline e quando usciamo dallo schermo facciamo taglia. Ecco qua, tagliamo. Quindi questa parte del filmato è quella senza il soggetto o i soggetti. Possono essere anche due persone che camminano, perché no? Cosa facciamo? Portiamo sopra l'altra parte e portiamo sotto l'altra. Ecco perché vi dicevo che è meglio utilizzare una porzione di filmato più lunga dopo che siamo usciti dall'inquadratura. Nel mio caso è corta, però va bene, facciamo che a me basta tagliare il filmato da qui in poi. Quindi taglio così, da qui fino qua. Tagliamo, quindi in questo caso la parte inferiore è più lunga e va bene, deve essere uguale o più lunga. Allora, in questo caso la faccio aderire. Quindi che cosa succede? Semplicemente portando appunto sotto la parte dove non c'è il soggetto o i soggetti dell'inquadratura, la portiamo qui, andiamo sopra e semplicemente ritocchiamo l'opacità, tutto là. Quindi la portiamo dove vogliamo e vedete che il soggetto va a diventare un fantasma. Quindi la portiamo a, non so, 28, 48, quello che volete, facciamo play. E vedete che il soggetto è come se fosse un fantasma. Ma allo stesso tempo non si vede niente sullo sfondo di diverso, perché appunto non essendoci qualcos'altro che si muove, l'effetto è venuto molto molto bene. Possiamo poi fare una cosa di questo tipo. Allora, possiamo inserire, allora, resetto un po' il keyframe. Possiamo fare che qui all'inizio sia 100% e qua in fondo sia 0%. Con le frecce, muovo. Quindi se il programma di montaggio può utilizzare il keyframe, lo mettiamo a 0, il soggetto va a sparire. Quindi facciamo play. Vedete l'opacità si muove dal 100% fino allo 0%. Allora, in questo modo l'ho impostato che vada dall'inizio alla fine, ma voi potevate anche impostare dall'inizio a questo punto, quindi a metà del filmato. Ed ecco qua. Quindi potete scegliere se opacizzare sempre in modo fisso oppure utilizzare un keyframe per fare un effetto di questo tipo. Quindi molto molto semplice, ripeto, basta preparare l'inquadratura fissa che non ci siano cambiamenti fuori dal soggetto principale o i soggetti principali e poi sovrapporre la parte, quindi spezzare in due il filmato, mettere sotto la parte dove non ci sono i soggetti e sopra la parte che deve avere l'effetto ghost. Ed ecco qua. Spero di essere stato utile. Un saluto a tutti.